Il 13 dicembre del 1985 era stato l'ultimo giorno di vita del capitale natale De Grazia. La commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti concluderà che tra le cause della sua morte si può riconoscere solo la causa tossica, quindi l'avvelenamento. Il capitano di Fregata era un ufficiale della Marina Militare in servizio presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Al momento della sua morte era applicato alla sezione di polizia giudiziaria presso la procura circondariare di Reggio Calabria e faceva parte di un pool investigativo coordinato dal sostituto procuratore Francesco Neri, costituito per effettuare le indagini avviate a seguito di un esposto presentato a Lega Ambiente su alcuni interramenti di rifiuti tossici in Aspromonte. Nel corso dell'inchiesta si aprirono subito scenari inquiedanti legati al fenomeno delle navi a perdere le navi dei veleni, cariche di rifiuti tossici e radioattivi che sarebbero state affondate a largo della Calabria con la convivenza dell'Andrangheta. E del Capitano Natale De Grazia, uomo di mare, uomo per il mare, si è parlato in un incontro organizzato dalla Lega Navale di Roccella Ionica insieme all'amministrazione comunale presso il Largo Sant'Antonio nell'ambito dei festeggiamenti marinari. Nell'incontro preseduto dal dottor Francesco Vigliarolo, presidente della Lega Navale di Roccella Ionica, è intervenuto il tenente di vascello Daniele Ticconi, comandante del porto di Roccella Ionica, e il dottor Antonio Commisso, delegato regionale Ammini Calabria. La figura di Natale De Grazia che viene ricordata a Roccella grazie a un evento organizzato dalla Lega Navale, dall'amministrazione comunale di Roccella e vede la partecipazione dell'Ammini Calabrese con la presenza anche del giudice Francesco Neri, sostituto procuratore, che daranno un compendio di quella che era la figura storica e l'impegno di Natale De Grazia, che, come tutti sanno, è morto in circostanze ancora rimaste misteriose. Comandante De Grazia, una figura storica importantissima, di cui oggi più che mai il corpo si pregia l'onore di ricordare. Un ufficiale del corpo delle Capitanerie di Porto che ha dato l'estremo sacrificio, ha dato la vita per condurre la propria missione. Nello specifico ricordiamo che il comandante morì in uno strano incidente mentre cercava di raggiungere la Spezia, dove avrebbe dovuto testimoniare in merito a delle importanti attività di polizia giudiziaria che stava facendo lui per il cosiddetto filone delle navi dei misteri. Quindi si tratta di un ufficiale del corpo delle Capitanerie di Porto che appunto ha dato l'estremo sacrificio nell'adempiere il dovere del proprio servizio. Una figura a cui il corpo è legata e che recentemente ha valorizzato anche attraverso l'attribuzione di una unità navale. La classe 420 infatti è proprio l'unità navale CP420 è intitolata a Natale De Grazia. Il varo è stato fatto nel 2020 a Messina e questa è la prima unità di una serie che ad oggi conta tre unità navali richiamate Angeli del Mare. Sono tutte unità navali in onore di personale del corpo morto durante il servizio o comunque per motivi legati al servizio. L'incontro introdotto e moderato da Piero Giancola del direttivo della Lega Navale. Ci sono stati due interventi importantissimi. Quello dello stesso dottor Francesco Neri che oggi è presidente della Corte d'Appello di Roma e l'architetto Sandro Dattilo, delegato regionale della Lega Navale. Sul mistero di De Grazia si è affrontato il tema anche con delle argomentazioni finora mai approfondite. Le conclusioni del primo cittadino roccellese Vittorio Zito durante l'incontro è stato lo stesso magistrato Francesco Neri a raccontare come in quel periodo si era pedinati, minacciati, spiati. C'erano tante micro spie. Dichiarazioni importanti che ancora rimangono coperte da segreto.